Ciao a tutti, mi chiamo Giole Capuano, penso mi conoscete e sto qui con Alessio Iorio, ciao. Chi non lo conosce, lui è veramente un mio grande amico e posso dire tra virgolette socio in Cristo, non si può dire. Però diciamo serviamo Dio insieme in un progetto che si chiama Impact Youth Italia e poi ve ne spiegheremo magari dopo se è nel caso. Comunque andate sulla pagina e andate a guardare perché faremo dei eventi pazzeschi. Quindi, allora, come forse avrete capito, finalmente abbiamo fatto questo podcast che sto a dire da due settimane che facciamo questo podcast. Però finalmente, ecco, però vorrei fare una precisazione perché in Italia c'è molta molta confusione su cos'è un podcast. Un podcast è questa cosa che stiamo facendo adesso, è semplicemente una conversazione tra due persone o più persone, ovvio se ci sono troppe persone si fa un po' confusione, però solitamente tra due persone su un argomento che gli sta a cuore o che gli piace eccetera. E noi lo stiamo facendo, diciamo, nell'ambito cristiano, oggi parleremo di un argomento che fra poco vi diciamo. Però quello che ho visto che in Italia solitamente si fa, si mette nome di podcast però in altri formati da altre persone che non voglio fare nomi. Però è giusto per precisare cos'è un podcast. Un'altra cosa che vorrei dire, diremo adesso, non so se lo diremo in futuro, però lo diciamo. Noi stiamo facendo questa cosa sotto autorità di un pastore. Quindi non ci vedete come dei giovani ribelli che vogliono dire cose contro tutti eccetera. Parleremo di argomenti, diciamo, sensibili o comunque argomenti delicati, esatto. Però non ci vedete come ribelli, noi semplicemente diciamo le cose che ci stanno a cuore. Vogliamo essere più o meno una voce dei giovani, perché penso che le cose che diremo oggi stanno a cuore a molti giovani. Sicuramente sbaglieremo, perché siamo giovani e sbaglieremo. Però se sbagliamo magari non ci fucilate proprio subito, ok? Dobbiamo crescere, dai. Esatto, cresceremo. Però, giusto per fare un po' di puntualizzazioni. Allora, entrando subito nell'argomento. Oggi affronteremo questo argomento, che ho scritto tutto se non mi scordavo. L'argomento è perché i giovani vengono visti come un pericolo e non una benedizione nella chiesa. È un argomento che a noi ci sta molto a cuore e penso che è molto molto attuale e c'è molto bisogno di parlare di questa cosa. Però è difficilmente affrontata ed è difficilmente affrontabile in una chiesa. Allora, entrando subito, subito proprio nella prima domanda, che è proprio come il titolo. Perché i giovani vengono visti come un pericolo e non una benedizione? In chiesa, a te la parola, vai. Ah, diciamo che comunque, come hai detto tu, è un argomentone. Ed è bello anche parlarne comunque, perché è giusto parlarne. Sì. Wow, perché i giovani vengono visti come un pericolo. Io penso che molti dei nostri conduttori amiamo la generazione prima di noi. Sottolineiamo questo. Hanno fatto veramente... Se siamo qua oggi è grazie a loro, perché se no non ci saremo qua. Tutto quello che hanno fatto è stato magnifico. Però penso che sono stati influenzati dalla loro generazione prima, che ancora di più non ha creduto in loro. Sì. Quindi loro ancora hanno questa cosa che si portano dietro, che ancora non riescono a fidarsi pienamente dei giovani. Perché come la generazione prima di loro non si è affidata pieno di loro, anche loro hanno questa visione che il giovane è un po'... non si converte mai, non fa quell'esperienza proprio così forte, che un giovane è sempre un po' quel pericolo perché è nella crescita continua, quindi può sbagliare. E viene visto come un pericolo secondo me perché il giovane viene considerato come qualcosa di incontrollabile, soprattutto l'adolescente. L'adolescente, comunque l'adolescenza è un'età incontrollabile, questo brufo le cose, ammettiamo, è incontrollabile l'adolescenza. Ci siamo passati tutti. Sì, però io penso che l'adolescenza comunque è anche il momento in cui uno si converte veramente. Sì. Però capisco che insomma molti conduttori possono vedere questa cosa come un pericolo, tipo non posso affidargli un ruolo o un compito o fargli fare qualcosa di troppo, 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 perché non sono sicuro che va, non sono sicuro che riesce e ho paura. E questo è uno dei motivi, secondo me. Ma infatti quello che dicevi tu prima, aspetta adesso non mi ricordo, mi sono scordato. Però sì, nel senso che un giovane viene visto diciamo come non ribelle ma molto diciamo instabile. Instabile, esatto. E questo è vero perché è la verità, come hai detto te, l'adolescenza c'è instabilità. Però io non penso che questo deve essere un blocco, diciamo, per fargli fare qualcosa in chiesa. Perché come abbiamo detto anche noi all'inizio di questo podcast, vabbè non siamo adolescenti, siamo giovani. Però sbaglieremo, la vita sia nella vita proprio umana, sia nella vita spirituale, più cresci, più vai avanti, più maturi e più non sbagli. Certo. Però questo non deve essere come di intralcio per essere usati da Dio, perché alla fine se fai, per esempio, svolgi un ruolo nella chiesa, stai facendo la volontà di Dio nella chiesa. E perché dobbiamo bloccare un giovane a fare la volontà di Dio? Solamente perché pensiamo che sbaglia. Sbaglierà. E come abbiamo detto anche prima, nel senso, il giovane deve essere sottomesso all'autorità del pastore, degli anziani, eccetera. Però non deve essere messo da parte. Ho pensato, io, è una frase che sento molto, i giovani sono la chiesa del domani. E io penso che è una cosa proprio, non riesco manco a capire come fanno a dire una cosa del genere. Perché? Perché? Cioè, il giovane, tu vedi un giovane in una chiesa che è tutto infuocato, tutto dice, per esempio, si è appena convertito. Sì, è instabile perché si è appena convertito. Magari non sa molto della Bibbia di Dio, eccetera. Però ha voglia di fare, ha voglia di dare la sua vita a Dio. E è proprio lì che dobbiamo, diciamo, la chiesa dovrebbe, non voglio dire dobbiamo perché sembra che sono un pastore, però è lì che la chiesa dovrebbe cogliere il giovane lì in quel fuoco e farlo crescere. E certo sbaglierà il giovane, perché sbaglierà, è inevitabile. Cioè, uno non nasce imparato, non è italiano, però è una cosa che si dice in italiano. Non nasce imparato, né umanamente né spiritualmente. Quindi bisogna lì coglierlo, diciamo. Che poi, cioè, la potenza di una vita dalla giovane età arresa a Cristo, io penso veramente, quando arriva grande spacca tutto. Perché se un giovane all'età di 15, 16, 14, anche 20 anni, si arrende totalmente a Dio e dice, senti, sai che c'è la mia vita, non è più la mia, ma è tuo affanne ciò che vuoi. È una decisione che prende tutti i giorni, ma vuoi mettere la potenza che ha quel ragazzo nella vita? Cioè, una consacrazione sin dalla giovane età è per forza un futuro glorioso, per forza. E un giovane che paga il prezzo della consacrazione dalla giovane età secondo me è una potenza nelle mani dei nostri pastori, nelle mani dei nostri leader, anziani, che neanche ci immaginiamo. Perché a un giovane non gli interessa più niente. Cioè, un giovane quando trova il suo amore... Eh, questa è un'altra cosa, sai. Nell'adolescenza è l'età dell'amore. Scopriamo l'altro sesso, ci innamoriamo. E se nell'adolescenza, se nella giovane età ci innamoriamo di Dio, è fatta. Perché ci prendiamo una cotta per Dio e da lì in poi iniziamo a perdere la testa per Dio e iniziamo a fare delle cose pazzesche. Io stavo vedendo in questi giorni dei giovani, un pastore ha fatto questa cosa qui, tutte le mattine alle 7, faceva una preghiera di mezz'ora alle 7, per 40 giorni nella quarantena, che tutti hanno preso come un momento per dormire, no? E io sono entrato in queste dirette, era pieno di adolescenti di 12, 13, 14, 15, ragazzi di 20, 25 anni, che si alzavano tutte le mattine, anche di domenica e di sabato, che è una cosa pazzesca. Sì. Alle 7 di mattina fino alle 7 e mezza per pregare. Non per fare una chiacchierata, ma per pregare. E un giovane che fa questo, io sarei il pastore più felice al mondo, perché sai che potenza hai nelle mani della Chiesa? Sì. Wow. Non hai fatto il nome, però un saluto a Giuseppe Punto. Ciao Giuseppe, ho amato le tue dirette. Sì, infatti, è quello il fatto che, secondo te perché, ora una domanda che non abbiamo scritto, infatti secondo me ti colgo un po' improvvisato, diciamo. Vai, vai. Secondo te perché, ti faccio due domande, però sono insieme, perché un pastore che magari, no aspetta, fammi la formula meglio, si vede che non ho scritto la domanda. Ci sta. Perché un pastore non vede un giovane così infuocato, o perché un giovane, diciamo, non è che si mostra, però, diciamo, non voglio sbagliarvi le cose, però non si fa vedere dal pastore, tra virgolette. Non riesce ad esprimere quello che ha dentro, dici? Sì, io ce l'ho una risposta, però io senti prima la tua opinione. Allora, quindi praticamente perché un giovane non riesce a mostrare quello che ha dentro di questo fuoco? Sì, sì. Ma io penso, pure quello che ho sperimentato io nella mia età, questo fuoco, insomma, è qualcosa che si sviluppa nella cameretta, nell'intimità. Quindi è qualcosa anche che tu sviluppi, insomma, nell'intimità. È una cosa che anche, penso che anche Dio decida il tempo in cui questo fuoco debba essere visto dagli altri. È tipo una preparazione. Però sì, qui sta anche la bravura del pastore dell'anziano, dell'andare a fare anche delle domande diretto, o andare a parlare con il ragazzo, con l'adolescente. E iniziare a chiedergli del proprio rapporto con Dio, apertamente. Io penso, non dobbiamo vergognarci di dire che preghiamo, che leggiamo la Bibbia, perché sono le cose più belle del mondo. Qui sta la capacità del pastore di andare a scoprire quale ragazzo veramente sta vivendo un rapporto di radici con Gesù, che va a fondo nella sua cameretta dove nessuno lo vede, dove nessuno lo sente. Qui sta il pastore, secondo me, dovrei investigare un pochino di più. Tu che ne pensi? Ma io ti ho fatto sta domanda perché mi è passato in mente sto pensiero, che non è la mia chiesa, perché il mio pastore è il mio babbo, quindi penso che... Però comunque io penso che molti giovani possono vedere il pastore come una persona distante. Wow, sì. Nel senso, sì, è l'autorità della chiesa, è l'autorità assoluta della chiesa, però lo vedono un po' come distante, nel senso lontano, non a livello di amicizia, però molte volte io penso che i pastori possono essere molto presi, perché lo so perché c'è un papà pastore, sono molto presi da, per esempio, problemi di tizio, problemi di caio, problemi della chiesa, problemi economici, quello che è. E molte volte, anche involontariamente, viene, diciamo, tra virgolette messo da parte il giovane, perché uno pensa, ah, questo sta crescendo, va bene, sì, magari pensano manco, forse manco è convertito, perché lo vedono, come avevo detto prima, un po' instabile, eccetera. E, diciamo, poi il giovane si può sentire anche a disagio a magari far vedere una cosa del genere al pastore, perché lo vede come distante, eccetera. Come hai detto te prima, infatti era quello il punto che volevo fare prima, ma mi sono scordato, che il giovane magari si vede anche come quello che ci vuole ancora tempo prima che si converte. Ok, il giovane si converte a 18 anni, però no, ogni persona si converte a tempi diversi. Io mi sono convertito a 11 anni, sono nato in una famiglia cristiana, mi sono convertito a 11 anni. A 13 anni ho suonato in chiesa per la prima volta, ho guidato la lode, capito? Non è... Guarda, ti posso dire, riascoltandomi, non solo perché è un fatto di come uno canta, però io dico, ora ancora dico mi va, ma perché mi hai fatto cantare? Però mio padre ha visto la passione che avevo, il cuore che avevo, sicuramente sapeva che sbagliavo, che in quel momento sbagliavo, che avrei continuato a sbagliare, e che anche adesso, nonostante sono anni che lo faccio, ancora sbaglio, magari a fare certe cose, o in generale. Quindi mio papà a me è stato a fianco, da quando, diciamo, ho preso questo ministero, non ho mai smesso, mio padre mi ha sempre incoraggiato ad andare avanti, eccetera, eccetera. E io, e questo che voglio vedere anche in altri giovani, lo so che il mio papà è il mio pastore, però voglio vedere anche altri giovani che hanno questo rapporto con il pastore, anche di confidenza, come hai detto te, a dire il rapporto che hanno con Dio, oppure essere proprio come, visti come proprio membri della chiesa, diciamo adulti, nel senso parlare anche dei propri problemi, esatto. E non per caricare di più il pastore, però penso che anche il lavoro del pastore, pastorare apposta, è quindi più chiaro di così. Sì, quindi diciamo questo fatto che molte volte magari può essere visto distante, però dopo parleremo su un altro punto. Ah, secondo me è toccato un argomento proprio azzeccato. Sì, e dopo ne parliamo più approfonditamente, perché c'è una domanda proprio apposta, apposta su questa, l'ultima domanda. Vogliamo andare avanti o devi dire qualcosa? No, no, andiamo avanti. Ok, andiamo avanti. Ci abbiamo il secondo punto, che le nostre esperienze come giovani nella chiesa, io ormai le ho dette alla mia quasi del tutto, e non era proprio, non era volontario, però vabbè, parlami prima della tua, perché io so che tu hai un'esperienza molto diversa dalla mia. Sì, infatti anche questo è stato il bello, insomma, di questo argomento, che abbiamo comunque due punti di vista molto diversi, due esperienze diverse. ed è bello trovarsi anche oggi qua, al tavolo, insomma, a parlarne, ecco, sono sicuro che sarà di incoraggiamento. Allora, io, vabbè, mi nasco una famiglia cristiana comunque, quindi dal mio padre curava una chiesa, era sotto però un'altra chiesa, andavamo quattro, cinque volte a settimana, anche sempre in chiesa, insomma, il bambino neanche c'avevo voglia di andarci. Vivevi in chiesa. Vivevo in chiesa, mangiavo lì. C'avevi letto, però, beh, sì, mi converto seriamente a quattordici anni, dopo un momento di depressione, insomma, questa è un'altra storia. Parleremo nel prossimo poche. Parleremo. Testimonialmente. A quattordici anni mi converto e da subito, ma proprio dal momento in cui mi converto, dico no, io devo servire il Signore. Non so perché, ma da subito ho sentito che era questo quello che dovevo fare. Addirittura io prima volevo fare il veterinario. Ma noi, questo non me lo avevi detto. Ne parlavo l'altro giorno con una mia amica, io devo fare il veterinario, cioè volevo fare il veterinario. Poi da quando mi sono convertito ho fatto una pasta, lascio tutto. Voglio servire il Signore. Come veterinario. Come veterinario. In Africa. Cioè da subito ho detto no, non sapevo neanche cosa voleva dire servire il Signore, perché non lo conoscevo Dio bene. Però ho detto sai che c'è, io voglio servirlo. Cioè non sapevo perché, però volevo farlo. E da lì ha iniziato a nascere un desiderio così forte a me. E preghiera dopo preghiera nella mia cameretta, radici che andavano sempre più a fondo, conoscevo sempre più Dio e più mi innamoravo di Lui. Fino a un certo punto ho detto beh devo fare qualcosa, voglio fare qualcosa. Mi ricordo benissimo, un anno addirittura. Mi fa ridere però, ti fa capire insomma lo stato d'animo che vivevo io. E penso molti giovani vivono. Una volta ero al mixer, stavo aiutando chi proiettava le parole, e mi fecero portare il microfono delle testimonianze. Gioele, era come se stessi predicando. Mi diedero questo microfono, io tipo, cioè ero contentissimo. E mi fa, Alessio porta il microfono delle testimonianze. Per me era il sogno, capito? Perché io da piccolo vedevo quello che portava le testimonianze. Voglio essere come lui. E io tipo, faccio signore grazie, è qualcosa di così bello. E andavo lì che portavo il microfono, si alzavano le testimonianze, io che correvo che portavo il microfono, mi sedevo tutto con tutto gasato, e poi subito, ecco adesso te lo riprendo. Per farti capire quanto avevo voglia, capito? Sì, sì, sì. Insomma, col passare degli anni poi, ho iniziato a servire Dio appunto nella proiezione delle parole, in qualche cosina di piccolina, ma sono molto grato a Dio per questo. Però a un certo punto, volevo servire Dio ancora in una maniera ancora più grande, no? E mi ricordo proprio che andai a parlare con il mio pastore, dopo un campeggio, quel campeggio è stato pazzesco, Dio mi mise una possibilità per predicare, non avevo mai predicato, feci un macello, però è stato bellissimo. Predicare questi dieci minuti, e il mio pastore è stato bravissimo, mi è venuto ad abbracciare, mi ha incoraggiato tantissimo, ha detto Alessio, wow è bellissimo quello che hai portato. E io ho fatto, ok pastore, però ora vorrei servire in chiesa, vorrei fare qualcosa in chiesa. Ho detto, mettimi alle pulizie, mettimi al mixer, mettimi a... Io suonavo, cioè suono, mettimi alla chitarra, mettimi a fare quello che vuoi, qualsiasi cosa, dicevo. E mi ricordo, lui mi disse questa frase qui, che comunque, non sto criticando il mio pastore, non sto criticando quello che ha fatto, anzi lo ringrazio, perché mi ha aiutato a crescere. Poi Dio guida ogni cosa, ricordiamo che siamo sotto la guida di Dio, quindi anche se stiamo passando un momento un po' difficile, Dio trae sempre il buono, Dio poi guarda i nostri cuori. Il mio pastore mi disse, alzati in testimonianza, cioè inizia con le testimonianze, io dico, ok, Gioele, io tutti i culti dei giovani, tutti, la stessa testimonianza. No, ogni volta, ogni volta, mi prendevo un versetto diverso e mi alzavo e testimoniavo e iniziavo a predicare, tutto casato io, dichiarare proprio. Sì, no, iniziavo, prendevo un versetto e iniziavo a leggere quel versetto, Dio mi ha detto questo, e poi mi risedevo. Sabato dopo, e mi risedevo. Tutti i sabati avevo questo fuoco di testimoniare, e ringraziando Dio, la gente mi dice, Alessio mi ha benedetto la tua testimonianza e questa cosa mi ha incoraggiato moltissimo, però è passato molto tempo, un anno, due anni, in cui io veramente testimoniavo, non ti dico tutti i sabati, ma uno sì, uno no, però non venni chiamato per fare nessun servizio, neanche il più piccolo. E questa cosa a me mi è dispiaciuta molto negli anni, perché dico, signore ma io ho voglia di fare qualcosa, io vorrei fare qualcosa, ti ripeto, prima al mio pastore avevo detto, anche le pulizie, cioè mi va bene tutto. Pensa te che cuore, nel senso... Sì, non mi interessava niente, io ero innamorato di Gesù, basta, io volevo servire Gesù, se era con la musica, a me piaceva molto suonare, se era con la musica o con le pulizie o con il microfono, era la stessa cosa. Però purtroppo non era quello insomma che il mio pastore vedeva in quel momento e niente, rimasi praticamente nella stessa situazione. Mi ha fatto male, perché mi ha fatto male, però mi ha aiutato a crescere e mi ha aiutato a fare di Dio ancora di più il mio pastore, colui che puntava su di me. Infatti mi ricordo che ogni volta che entravo in camera facevo, signore ma io ti voglio servire, voglio fare qualcosa. E qua ringraziamo di nuovo Giuseppe Punto perché faceva le evangelizzazioni nelle scuole e ti mandava questo kit evangelistico e io lo ordinai subito e iniziai a evangelizzare nella mia scuola e per me quella era una cosa pazzesca. Grazie Giuseppe. Di nuovo Giuseppe. Però sì, il Signore lì mi incoraggiò, mi disse Alessio vai avanti e lì crebbi nella mia intimità con Dio. Allora, sì, mi è dispiaciuto però devo anche ringraziare insomma Dio che mi ha tenuto fermo. Però mi sarebbe piaciuto, tornare a Signore mi sarebbe comunque piaciuto fare qualcos'altro però attualmente mi trovo in un altro posto, un'altra chiesa e mi ricordo che racconto questa cosa e poi sto zitto che sto parlando un botto. Eh vabbè, tanto guarda che un polga si parla, noi che cambiamo. Mi stavo trasferendo in questo posto e nella mia chiesa ancora non facevo niente. Anzi no, ero entrato a suonare nei turni tipo del sabato e lì stavo volando veramente, ero contentissimo. Però poi mi dovevo trasferire e questa cosa a me mi aveva distrutto perché dico signore ora che ho iniziato a fare qualcosa in chiesa mi fai trasferire mi fai andare in un'altra chiesa e io pensavo ora devo ricominciare tutto da capo. Sì. Ha detto mamma mia signora dai per favore fammi fare qualcosa e mi ricordo che Dio mi disse che appunto quegli anni erano stati degli anni di preparazione di radici che vanno in basso per formare il mio cuore da servitore e mi disse guarda Alessio tu ora che andrei in questa nuova chiesa farei questo 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 e questo e io dico sì vabbè ciao ciao sono stato 17 anni in questa chiesa e purtroppo non ho mai potuto fare niente ora arrivo in una nuova chiesa nuova e il pastore non mi conosce i giovani non mi conoscono il gruppo non mi conosce e io entro e faccio tutto ho fatto signore tu stai volando proprio ciao però qua ti fa capire quanto veramente è Dio che decide chi serve e chi no ed è Dio che vede il cuore se io penso che se un giovane ha un cuore veramente che vuole servire Dio Dio un'opportunità gliela dà assolutamente e mi sono trovato in questa chiesa magnifica dove il pastore è un pazzo ma lo amo veramente è un pazzo in un modo buono sì in un modo buonissimo perché dopo pochissimo tempo mi ha messo a suonare nel gruppo dei giovani al gruppo dei giovani poi mi sono battezzato e mi ha messo subito a predicare il venerdì e io per me veramente mi ricordo il primo venerdì stavo morendo ma ero stracontento poi mi ha giunto in altri servizi e dopo un anno questa è una cosa da fazzi mi ha reso responsabile dei giovani perché si dice che il Signore ha messo questa cosa nel cuore e qui ho visto veramente la mano di Dio che è l'occhio di Dio l'occhio di Dio vede il cuore cioè qualsiasi cosa tu stai passando in questo momento se Dio cioè se tu hai un cuore che vuole servire Dio prima o poi arriverà il tuo momento prima o poi arriverà il tuo momento io voglio fare una domanda a te invece Gio tu invece a 13 anni proiettato subito comunque col papà pastore come l'hai vissuta questa cosa della crescita anche nel servizio come l'hai vista sì diciamo che è molto diverso molto diverso la tua situazione parlando prima un attimo del mio background diciamo io sono nato in una famiglia cristiana come anche te tra l'altro però ho deciso di convertirmi veramente a 10 barra 11 anni ok a 10 anni stavo in una chiesa durante un culto invece di andare nell'incontro dei giovani sono rimasto nel culto diciamo principale perché c'avevo un mal di pancia non mi ricordo e proprio durante la lode perché non mi ricordo perché durante la lode ci portavano fuori vabbè e durante la lode diciamo mentre c'era un momento di adorazione tutti con gli occhi chiusi ho avuto tipo una visione di Gesù che moriva sulla croce e da lì ho iniziato a piangere e mio papà si è avvicinato ha detto Gio vuoi qualcosa per il mal di pancia pensavo che era il mal di pancia dice poi non sta piangendo eh sì no ci avete un tè una camomilla però poi ho spiegato e dopo abbiamo pregato per il perdono dei peccati lo so avevo 10 anni però no Gio ma l'hai mai raccontata questa storia comunque eh infatti sentiti sempre cose sono un ragazzo che ho sempre novità bellissima comunque veramente sì diciamo poi l'anno dopo purtroppo perché poi ci siamo trasferiti siamo trasferiti un botto di 17 case in 13 anni mi sono trasferiti quindi proprio siamo trasferiti in Inghilterra e lì mi sono battezzato insieme a mio fratello e da lì vorrei dire che diciamo è diciamo nato veramente sono nato di nuovo ed è iniziato il mio cammino come cristiano perché sì sono nato in una famiglia cristiana ma diciamo prima era andavo in chiesa perché andavano i miei genitori e questo è un punto di svolta di ogni persona che nasce in una famiglia cristiana lo so che sto andando un po' fuori tema però è una cosa che voglio dire che solitamente quello io quello che mi sento molto dire a me è quando è che hai ricevuto lo spirito santo per la prima volta oppure quando è che ti sei convertito per la prima volta io sì adesso ho detto a 10-11 anni però io solitamente non so rispondere perché essendo nato in una famiglia cristiana cioè per esempio in una famiglia non cristiana se uno va in chiesa per la mia prima volta per esempio c'ha quel momento proprio che proprio dà la sua vita a Dio che perdona tutti i miei peccati ma io non c'ho proprio un momento specifico capito c'ho questi momenti che quando ho preso la decisione veramente mia e non diciamo passata dai miei genitori perché prima andavo in chiesa perché andavo dai miei genitori questo penso che è una cosa che molti cristiani giovani devono fare arrivare a quel punto di dire ora la fede mia non è passata dai genitori assolutamente e questo vabbè è proprio fuori tema però è una cosa fondamentale sì 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 nel senso andare in chiesa forse questo è anche forse un motivo per cui i pastori o altre persone vedono i giovani come ancora non si sono convertiti perché magari aspettano quel momento che c'è ah wow perdonami eccetera perché è una cosa che ho visto in alcune chiese che i giovani essendo che vengono messi da parte magari poi vanno a fare esperienze eccetera eccetera e poi si convertono però io penso che un cristiano può anche evitare di fare esperienze negative assolutamente non deve per forza andare in discoteca a farsi di canne eccetera per poi convertirsi comunque sono ferite poi quelle che ti porti esatto io ho sentito persone dire proprio ah no ma devono prima fare le loro esperienze poi convertirsi che penso che è una cosa veramente che io ci sono rimasto allibito ma che cosa stai dicendo perché devi far soffrire anzi proprio un genitore ha un figlio barra figlia ha detto una cosa del genere capito e io penso che è una cosa che i cristiani i giovani cristiani devono arrivare al punto a dire questo ora da ora in poi è una mia decisione e da lì ricercare di più la faccia di Dio leggere di più la Bibbia magari anche andare dal pastore e mostrare diciamo vabbè sono andato completamente fuori tema stavo parlando della mia della mia allora della mia esperienza sì mi sono convertito mi sono battezzato poi diciamo uno di quei momenti che ti dicevo prima in cui ho ricevuto tanto dello spirito è stato in un campeggio in Inghilterra a New Wayne avevo 13 anni era circa agosto e diciamo lì vedendo una nuova realtà diciamo era un campeggio proprio piccolo 15.000 persone proprio piccolo c'erano tutti questi giovani io non avevo mai visto niente del genere siamo sempre stati io mio fratello e Christopher perché chi non conosce Christopher è la nostra mascota salutiamo Christopher salutiamo Christopher anche in chiesa mia siamo tre giovani vabbè ora anche mia sorella che sta crescendo quattro giovani e non abbiamo mai visto così tanti giovani insieme non sono mai stato a un campeggio neanche in Italia per me è stata un'esperienza unica vedere tutti questi giovani o quelli che suonavano e ho detto wow Dio anche io voglio essere così cioè prendendo tipo come Paolo diceva nel senso prendete a me come punto di riferimento esatto io vedevo loro li guardavo dal basso all'altro nel senso io voglio essere come loro e da lì tornato dal campeggio in Inghilterra ho preso una chitarra e ho iniziato a insegnarmi da solo così suonavo la batteria prima in chiesa così però era sempre un po' sì la suonavo però capito batteristi sì batteristi cioè chiunque suona la batteria c'è se te devi sfigare no scherzo 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 ok salutiamo Abdul vabbè oggi stiamo salutando troppe persone che stavo a dire ah sì ho preso la chitarra ho iniziato a imparare da solo le canzoni così mi babbo un po' mi ha iniziato all'inizio faceva tipo gli arpeggi devi fare per sciorretti le dita ti 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 e ho detto oh papà basta fammi fare le cose faccio queste cose sì ma che sta a fare non prendete il mio esempio fate quelle cose di sciogliere le dita però ho iniziato a insegnarmi da solo e c'è stato un momento in cui c'era un un servizio di battesimi si dice servizio sì sì un servizio di battesimi e mio papà ancora suonava la chitarra e faceva il pastore infatti era molto a volte era nervoso doveva fare tutto si doveva faceva tutto andava a puliva faceva tutto vabbè e salutiamo Giuseppe ciao Giuseppe anche il tuo pastore Giuseppe ciao Giuseppe Giuseppe Giannone 4 Giuseppe ora mi segno quanti Giuseppe salutiamo sì sì dopo mettiamo in lista tutti Giuseppi li tagghiamo tutti stavo delirando questo è bello nel podcast bisogna scherzare ci sta ci sta e mi scordo perché stava lì però ah sì di tuo padre che stava sì stava facendo tutto però oh mamma mia vedi che ti ho detto che cascava sto microfono appena lo dico è stato un momento così era sotto la potenza dello spirito ok basta stavo delirando potete schippare al minuto 33 ci siamo ci siamo in pratica proprio quel momento quando c'era sto culto di battesimi mio papà si sentiva male c'era tipo il mal di gola non poteva cantare mio papà sapeva che io nella mia camera così giusto per ah quindi tu non avevi mai suonato in chiesa mai suonato mai fatto niente davanti a tutti facevo nella mia cameretta così suonavo cantavo le canzoni in inglese mi piaceva mio papà ha detto gioia devi fare tu io con tutto un panicano che devo fare devi cantare tu tra un po' piangievo non lo so però comunque sentivo da parte di dio che era qualcosa che volevo fare capito che aspettavo da tanto tempo certo c'era un po' l'ansia capito suonata l'ansia a tutti tra l'altro era un ragazzo molto timido ancora adesso sono un po' timido questo ha tredici anni giusto? tredici anni no tu non mi conoscevi ancora tredici anni ero molto timido cioè conosci mia sorella quanto è timida ma 300 volte più timida di mia sorella ah beh poi tredici anni comunque è molto piccolo sì sì un bambino appena entrato nell'adolescenza e tutto un panicato suonavo suonato da schifo perché suonato da schifo cioè mi ricordavo io e mio fratello sulla tastiera e non riuscivo a tenere il tempo e me la prendevo con mio fratello no è Daniel che non va in tempo e mio babbo che stava lì vicino all'inizio faceva le canzoni e mio fratello che non va in tempo però ero io quello che doveva tenere il tempo no guidando la lode vabbè insomma già dall'inizio si sbagliava ovviamente però stavo lì per me lì è stato l'inizio di diciamo questa chiamata e da lì subito mi sono sentito benedetto proprio questo voglio fare capito questo voglio fare e da lì in poi mio papà nonostante facevo schifo e non sbagliavo eccetera e ha detto Gioele vuoi continuare a farlo ma va bene e da lì ho continuato tutte le domeniche quindi da lì tu hai iniziato tutte le domeniche non mi ricordo una domenica che mio papà ha detto no guarda devo fare io cioè capito nonostante sbagliavo ovvio mio papà era magari anche più non magari era più guidato dallo speed era più punto eccetera io ero un giovane capito però mio papà da lì mi ha iniziato mio papà mio pastore per chi magari non ha sentito prima mi ha iniziato a incoraggiare eccetera mi ha fatto portare avanti standomi vicino ovviamente eccetera eccetera però ovviamente più vai avanti più mi nisterò diventa tuo nel senso personale e ovvio penso che il ministero della lode deve essere sempre sottomesso al pastore però c'è già più autonomia nel senso che ne so prima mio papà mi diceva fai questa canzone eccetera ancora adesso magari mi consiglia delle canzoni da fare però adesso per esempio scelgo le canzoni eccetera ci mettiamo però da lì è stato l'inizio per me e da 13 anni fino a poco tempo fa quindi 20 anni quindi sono 6 anni no 7 anni non so contare 7 anni sono tantissimi anni e io ho sempre fatto solo la lode mi è sempre piaciuto però ultimamente Dio mi ha chiamato e mi sta chiamando ancora a fare di più e per me è iniziato qualche settimana fa non voglio dire per la prima volta perché già precedentemente ho portato una testimonianza o qualcosa della Bibbia però per la prima volta ho portato diciamo tra virgolette un mini insegnamento 4-5 minuti su qualcosa che manco mi ricordo cosa però da lì ho sentito anche sbaglio io non sono mai stato bravo a parlare capito specialmente davanti agli altri non voglio dire che mi impanico però ho paura di sbagliare eccetera anche a formulare parole perché a volte mi sbaglio però da lì ho sentito anche wow ma io anche questo voglio fare capito a me piace sento proprio la guida dello spirito mio papà mi sta incoraggiando guarda puoi fare di più fai di più che poi si può dire pure che servizio porta l'altro servizio comunque più servi Dio è come tutto più hai voglia di fare altro esatto io penso che Dio ci chiama anche a fare di più esatto cioè non voglio dire che uno non può avere lo stesso ministero per tutta la sua vita può essere però dalla mia esperienza Dio mi sta chiamando sempre a fare di più anche oltre la chiesa anche con quello che stiamo facendo con impact è completamente fuori dalla mia zona di comfort assolutamente ora magari non abbiamo detto precisamente quello che stiamo per fare però lo capirete perché sto dicendo completamente fuori dalla mia zona di comfort cioè umanamente io non voglio fare una cosa del genere però per Dio la voglio fare capito esatto e io penso che anche questo è un punto che bisogna affrontare nel senso uscire da questa zona di comfort anche per i giovani anche per i pastori magari fuori dalla loro zona di comfort dare un lavoro o un ruolo da svolgere da un giovane essendo che magari pensa che sbaglia eccetera però anche i giovani stessi andate dal pastore dite cosa posso fare se il pastore vi dice una cosa anche grande e voi fuori dalla zona di comfort fatelo quello veramente vi benedice tutte le cose che sto facendo finora sono fuori dalla mia zona di comfort ad esempio questo canale youtube andate a guardare il mio primo video sembro che mi sto facendo la cacca sotto capito non ho mai pensato di fare una cosa del genere però dio mi sta portando sempre a uscire fuori da questa zona di comfort perché dio ci vuole sempre far superare i nostri limiti perché dio non ha un limite su quello che si può usare per noi diciamo vabbè quanto chiacchierato sono uscito fuori con questa invece guarda è una cosa molto bella è un po' diversa dalla tua situazione però è bello anche avere due punti di vista ok allora a che minuto siamo arrivati siamo tipo già oltre la mezz'ora spettacolo sto podcast mi sto divertendo si è bello ci sto piacendo tantissimo come andrà mi piace allora terzo punto qui ti sei preparato tu qualcosa cosa dice la bibbia a proposito dei giovani o meglio che esempi ci sono nella bibbia per esempio di anziani o pastori o comunque gente più adulta che pastora i giovani e che li esorta li incoraggia e li mentora tu hai detto che si può dire in italiano si si mentora 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 giustizia vai a te la parola allora ci sono tanti esempi nella bibbia di uomini che preparano dei giovani per prendere il loro posto c'è Mosè con Giosuè Elia chiamato da Dio a curare e a preparare Eliseo però c'è un uomo in particolare che si chiama Gesù non è molto famoso nella bibbia ma chi è? non l'ho conosciuto vecchio testamento un certo Gesù che che fa questo ma lo fa in una maniera come nessuno mai ha fatto prima una maniera pazza una maniera bellissima che è veramente comunque Gesù è il nostro esempio su tutto dobbiamo imparare a camminare a respirare tutto come faceva Gesù perché è veramente il nostro punto di riferimento principale e molti dicono che non si parla di questo nella bibbia ma io ho aperto l'altro giorno la bibbia in due secondi veramente è pieno di come Gesù preparava i discepoli gli apostoli a prendere il suo posto allora partiamo prima da dire questo Gesù inizia il suo ministerio a 30 anni giovanissimo 30 anni comunque è un pastore dei giovani 30 anni è un un ragazzo che serve nell'adorazione 30 anni è un ragazzo giovanissimo assolutamente a 30 anni chi penserebbe mai di prepararsi a 30 anni delle persone che che lo come si dice lo succederanno no aspetta questo è inglese il contrario di precedere com'è antecedere aiuto prenderanno il suo posto mamma mia questa è stata tosta vedi qual è il pericolo di non fare tagli nei video ti sei imparicato mi riprendo quindi le persone cioè a 30 anni chi penserebbe mai cioè a 30 anni comunque pensi a te cioè non pensi io anche sinceramente io ho 20 anni non penserei mai a preparare qualcuno dopo di me 20 anni so io che devo crescere so io che devo crescere esatto però Gesù vabbè a 30 anni decide di scegliersi delle persone ed è pazzesco questo perché Gesù si sceglie dei discepoli ma in particolar modo degli apostoli 12 li conosciamo bene da curare da portare con sé tutti i giorni da rifare delle esperienze con lui e da buttare poi nel campo di missione e per poi poter prendere il suo posto no ed è molto bello perché la Bibbia in Matteo 17 dal verso 24 al 27 ci conferma il fatto che quasi tutti gli apostoli tranne Pietro erano minorenni cioè quindi Gesù trentenne si va a scegliere dei ragazzini praticamente adolescenti instabili dei adolescenti instabili Matteo 17 24 27 dice praticamente parla di quando a Capernaum Gesù e Pietro pagano la tributa e gli fanno pagateci la tributa e Gesù va dice a Pietro pesca il pesce aprigli la bocca prendi i soldi per me e per te perché Gesù dice per me e per te perché all'epoca la tributa dovevano pagarla soltanto i maggiorenni quindi il resto dei discepoli di Gesù gli apostoli di Gesù erano minorenni l'ho scoperto anche io di poco recentemente e quindi questo ci conferma che tutti gli altri apostoli tranne Pietro erano minorenni erano dei pescatori comunque erano dei ragazzini dei ragazzini di strada si può dire anche e Gesù 30 anni era un ministerio come il suo che comunque non è poco che comunque si sceglie dei ragazzini cioè dei ragazzini su cui nessuno punta mi piace molto su come Gesù sceglie anche Matteo Matteo era un tizio che riscattava le imposte erano odiati erano veramente odiati all'epoca ancora adesso ancora adesso ma salutiamo i Mattei caccia di soldi però Matteo era odiato ancora di più sai perché perché lui era di quel popolo però serviva ai romani lui prendeva i soldi che il popolo il popolo di Israele doveva dare ai romani quindi lui del popolo di Israele faceva quello che il popolo di Israele non voleva fare cioè evidentemente lui ritirava i soldi prosciugava i soldi che poi andavano ai romani quindi era considerato un traditore uno schifoso quindi Matteo insomma ha avuto un po' un'esperienza brutta però Matteo però Gesù oltre a scegliere questo ragazzino si sceglie una persona emarginata anche e questa è una cosa pazzesca secondo me quanti giovani sono considerati sfigati nelle nostre chiese perché perché è bruttino perché non è quel giovane figo che ti immagini che ti porta la parola quando uno predica te lo immagini con gli skinny jeans tutto come on mille follower su Instagram invece può essere che è un ragazzino poverino cioè poverino ragazzino normale emarginato non considerato da anche gli altri ragazzi della chiesa però ringraziando Dio Dio ha un altro modo di vedere le persone che abbiamo noi Dio guarda i cuori quindi questo è il primo primo punto ve lo parla di quattro punti quindi questo è il primo punto che Gesù sceglie degli adolescenti e come abbiamo detto prima l'adolescente è instabile è impreparato e gli apostoli erano impreparati cioè gli apostoli erano la maggior parte erano dei pescatori Matteo appunto faceva le imposte facciamo tutti altro e Gesù a un certo punto li chiama a fare tutt'altro come detto tu completamente fuori dalla loro zona di comfort io mi immagino che insomma i pescatori non è che parlino così tanto con le persone perché comunque il pescatore si alza presto la mattina non so gli orari dei pescatori forse neanche sapeva parlare forse erano ignoranti ci può stare assolutamente quindi Gesù li chiama a fare qualcosa oltre a seguirlo però a sostenerlo in questo ministerio e a prendersi questo ministerio chiama delle persone che non erano pronte e non sapevano cosa infatti in Matteo 4 dal 18 al 22 vediamo come Gesù chiama Pietro e Pietro stava pescando gli fa Pietro vieni e Pietro lascia tutte le cose e segue Gesù quindi il giovane quello sul quale tu punti è impreparato per forza è impreparato come hai detto tu non si nasce che si sa predicare non si nasce imparati imparati cioè non nasci che sai guidare l'adorazione non nasci che subito spacchi tutto nella chiesa cioè nasci timido in modo figurativo nessuno spacca niente no non spaccate niente poi pagate infatti quindi cosa possiamo imparare da questi primi due punti uno puntare sugli adolescenti e sui giovani indipendentemente dall'età quindi anche 20 anni 22 23 14 13 12 7 no aspetta ancora bambini ci può stare no iniziate a curarli ho visto bambini di 6 anni predicare meglio di pastori che no veramente pazzesco non l'hai mai visti tu bambini di 6 anni che predicano proprio professano chiedono perdono ai peccati che predicano davanti a Già proprio guidati da Dio ma i bambini fanno un gran cuore quello è vabbè una cosa proprio che Dio guida però nonostante cioè l'età non c'è un'età uno pensa come ho detto prima a 18 anni si converte a 18 anni può iniziare a fare eccetera eccetera non c'è un'età è tutto dipendente dal soggetto dal singolo da quando Dio si inizia a usare di lui inizia veramente a convertirlo tra virgolette esatto meglio quando la persona decide veramente di convertirlo di arrenderti esatto quindi vabbè puntare sui bambini assolutamente quindi insomma all'età scegliere dei giovani e il 2 non spaventarsi se non sono pronti perché non saranno non saranno pronti nessuno sarà pronto e proprio Gesù ci insegna che bisogna scegliere persone non pronte e che appunto come dici tu non non sono pronte cioè non sono nella loro zona di comfort il punto 3 si collega al 2 dell'impreparazione il punto 3 sarebbe gli errori nella crescita uno dice gli apostoli no io come te l'immagini tu gli apostoli io me li immagino strafighi no che tutti tutti preparati sì no io me li immagino me li immagino che loro tipo quando entrano in città sono fuori gli apostoli dai tipo alle strade muscolosi esatto con i capelli al vento no cioè le immagini le immagini perfetti gli apostoli cioè te le immagini perfetti invece ieri sono andato a cercare un po' veramente dieci minuti degli errori che gli apostoli hanno fatto e ne ho contati cinque in quattro minuti veramente cioè veramente cinque errori in cui Gesù proprio li ha ripresi ma anche se veramente quante volte se ci va a vedere Matteo Luca Giovanni Marco sono pieni di errori dei discepoli ora ne menziono uno poi se volete andare a leggere leggeteli Marco 440 la tempesta la mancanza di fede Luca 9 46 48 i discepoli discutono su chi sia il più grande Matteo 16 21 23 Pietro rimprovera Gesù questa è una cosa sì 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 Pietro non so come veramente in quel momento Matteo 26 dal 69 al 75 Pietro rinnega Gesù perché questo è anche un altro punto ora poi lo prendiamo Marco 10 45 è sempre sull'umiltà che si sentivano tutti coatti più grandi dell'altro quindi quando scegli un giovane quando inizi a puntare su un giovane aspettati degli errori non ti capiterà mai ma ci metto la mano sul fuoco il giovane che non ti deluderà mai e che farà tutto perfettamente come tu vuoi ma proprio questo sta il fatto che una generazione prima deve puntare sul giovane deve iniziare a puntare sulla generazione dopo perché gli errori che la generazione prima ha fatto deve assolutamente cioè la generazione prima di noi deve assolutamente aiutarci ad evitare gli errori che loro hanno fatto assolutamente perché se non abbiamo visto grandi cose se non abbiamo visto grandi risvegli grandi raccolte di anime soprattutto nella nostra nazione che è da un bel po' che non si vede tutto questo secondo me è anche un po' per gli errori che sono stati fatti amo la generazione prima di noi la stimo per me è un esempio però deve aiutarci che ora tocca a noi deve aiutarci a non commettere i loro stessi errori comunque quando parli con la generazione prima puoi parlare anche con il tuo padre loro sanno che hanno fatto degli errori ne sono consapevoli li ammettono è proprio qui che sta l'importanza del curare i giovani e puntare sui giovani perché tu quando lo curi sai dove andare a tappare sai dove come indirizzare il giovane infatti proprio questo volevo dire ti interrompo vai 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 oltre proprio la generazione passata come hai detto te ma anche guarda gli apostoli stessi queste due cose che hai detto cioè Pietro che rimprovera Gesù io ho visto anche giovani che rimproverano i pastori tipo no no ma questo secondo me non bisogna farlo così bisogna farlo colì cioè capito cioè non è questo il modo che ci dobbiamo presentare ai pastori nel senso assembrare un tizio che vuole perché forse alcuni pastori non vogliono mettere i giovani in alcuni ministeri perché hanno anche paura di questo è vedere il giovane che magari vuole cambiare tutto questo non va bene questo va fatto così la musica così e la predicazione così non andiamo dal pastore con questo atteggiamento di voler cambiare voler fare se vuoi proporre proponi però stai sempre sottomesso all'autorità assolutamente però come hai detto te anche essendo che la generazione precedente la nostra e quella prima e quella prima hanno sbagliato in alcuni punti loro possono aiutarci a non sbagliare non vuol dire che non sbaglieremo però se stiamo sottomessi all'autorità e alla generazione precedente se loro ovviamente ci vogliono tra virgolette usare non è la parola giusta diciamo vogliono metterci a fare svolgere al servizio esatto loro possono starci vicino e aiutarci a superare quegli errori o quei punti dove loro magari si sono bloccati eccetera eccetera ovvio magari non tutto perché noi viviamo in una società che è in costante mutazione mamma mia guarda che cosa ho detto però veramente a parte di scherzi è in costante mutazione ma proprio cambia nuove tendenze nuove mole eccetera e non è che la chiesa deve essere mondana però anche la chiesa deve stare a passo con questo e aggiornarsi al passo con non le tendenze non voglio dire gli aggiornamenti però diciamo io stavo parlando con un ragazzo che in pratica nella loro chiesa credono che youtube o facebook eccetera instagram è satanico mamma mia capito capito a che punto io penso che i social media e queste cose sono un metodo evangelistico molto molto sottovalutato non deve sostituire sostituire quella tu per tu ma dove stanno i giovani nella maggior parte dello giornata sul loro telefono se noi non è lì che li incontriamo che andiamo a casa sua a bussare come i testimoni di Geova capito è proprio lì che bisogna raggiungerli e credo che la chiesa può diciamo prendere anche non esempio da giovani però è il giovane che qui può dare una mano perché magari il giovane è più dentro la società che stiamo adesso magari quelli più anziani vorrei dire magari sono sotto alcuni aspetti possono essere attaccati al passato magari qualcosa ha funzionato per loro nel passato e lo continuano a fare oggi però non vedrai gli stessi frutti che c'erano ieri perché questa società che è in costante costante mutazione nuove tendenze nuovo questo nuovo paio di scarpe nuovo iphone nuovo questo capito la chiesa deve trovare questi nuovi metodi nuovi modi eccetera non è che la chiesa in questo modo eccetera attrae i giovani perché è Dio che converte le persone però questo può essere anche un pericolo perché io ho visto molte persone non voglio fare nomi non voglio dire chi eccetera eccetera però stanno se ne stanno approfittando di questa diciamo società in costante mutazione e stanno portando delle dottrine sbagliate o veramente antibibliche e le persone essendo che la persona è attratta dal nuovo dal wow guarda la novità eccetera cade subito in questa trappola guarda questo è nuovo wow nonostante ci sono verità bibliche da anni e anni e anni che sono così fondamentali nella chiesa che non quelle non si non mutano sono immutabili da anni e arriva Tizio e dice no è così ora ah wow così che bello perché magari gli conviene eccetera questo non c'entra niente su quello che stavo per dire fa parte di questa società in costante mutazione va bene ora continuo quello che stavi dicendo che sicuramente ti sei perso però volevo dire sta cosa stai toccando stai lanciando delle bombe sono degli altri argomenti che si potrebbero aprire e fare altri podcast di ore assolutamente guarda già siamo quasi a un'ora quindi questo poi soprattutto l'ultimo argomento che hai toccato è qualcosa di molto attuale è di ora proprio sì sì proprio adesso in questo momento quindi è perfetto se c'è ancora altri punti sì l'ultimo è il puntare su uno dei momenti in cui non ho preso tanto uno dei momenti che ce ne sono tanti però uno dei momenti in cui Gesù punta sui discepoli è Luca 10 1 che è la missione dei 70 Gesù manda gli apostoli i discepoli a due a due per le città questa è una cosa molto qua c'è qualcosa di veramente bellissimo dove manda i discepoli Gesù manda i discepoli nelle città dove lui doveva andare Gesù manda prima i discepoli per sistemare e poi va a lui cioè renditi conto il livello di fiducia che Gesù aveva verso i discepoli non va non va a lui stesso ma manda prima loro poi li fa tornare e poi va a lui cioè questa è secondo me una cosa pazzesca cioè come Gesù si fidava dei discepoli e come Gesù osava puntare sui discepoli perché comunque puntare su un giovane è osare anche assolutamente quindi a me sta cosa mi ha sconvolto cioè Gesù comunque è pazzesco sì ma anche secondo me anche il discepolo essendo che ha seguito Gesù ovunque stava andando Gesù loro seguivano Gesù e quello che stiamo dicendo prima di uscire dalla zona di comfort secondo te i discepoli era nella loro zona di comfort andare a due a due nelle città nei paesi diciamo prendere il posto di Gesù alla fine non è proprio prendere il posto di Gesù perché nessuno può prendere il posto di Gesù alla fine il suo ministero cioè era proprio fuori dalla sua zona e su due fuori dalla sua zona della loro zona di comfort proprio hai capito? vabbè vai no no vai ho fatto ho fatto però comunque sì poi sì anche quello che hai detto tu il fatto di passare tanto tempo insieme cioè comunque stavano sempre con Gesù loro sì ora per carità non è che uno un posto di Gesù si può portare il giovane nel letto a casa sì in magno 24 su 24 cioè sarebbe un po' strana come cosa molto strana se lo volete fare fa proprio però a volte sai questo mi ricollego anche a quello che hai detto prima che a volte il postore viene visto come come Dio cioè una cosa di lontano capito? sì 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 vabbè non è che Dio è lontano no no sbagliato a dire come capito una divinità lontana capito? Dio con la D minuscola Dio con la D minuscola Dio greco eccetera Dio nostro per precisare ti sono impicciato se no devo mettere i sottotitoli era meglio precisare vai vai io penso una cosa cioè appunto che Gesù ci insegna è appunto il passare anche il tempo con le persone sulle quali puntiamo quindi tipo un consiglio che potrei dare a un pastore vatti a prendere un caffè con un ragazzo tu e lui basta senza tua moglie senza gli anziani della chiesa che mettono ancora più pressione al giovane sì fagli vedere che sei umano ecco a volte i pastori vengono visti come non umani come il prescelto sì sì che per carità è troppo lontano non gli puoi neanche parlare esatto sì sì e creare anche quel rapporto con il giovane capito come se ora mio papà è mio papà ma come se fosse un padre proprio un padre cioè non c'è nessun modo meglio per descrivere proprio quel padre e come hai detto te proprio a tu per tu che non ci sia nessun altro che lui proprio può stare lì confidarti quello che c'è sì capito sì sì quello è proprio il fatto di mentorare nel senso mentorare io quando penso a mentorare penso tipo che ne so il film Doctor Strange non so perché mi viene non so se l'ho mai visto in pratica questo Doctor Strange che va e vuole imparare queste arti mistiche e c'è diciamo lì l'anziana che proprio lo mentora gli sta vicino lo aiuta eccetera ed è quello il fatto di avere quel rapporto intimo vicino nel senso essere veramente come un padre e non come una persona distante diciamo tu devi fare un altro punto no 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 a proposito dopo aver analizzato così tante cose io vorrei lanciare un po' una bomba diciamo non voglio sbagliare a dire perché ripeto come ho detto all'inizio non vogliamo essere critici esatto non vogliamo essere visti come ribelli o niente del genere però io voglio parlare direttamente al cuore a magari qualcuno che nella chiesa non sta diciamo dando spazio ai giovani non siamo io e alessio che ve lo diciamo è la bibbia capito cioè è come andare contro la bibbia qualcosa di biblico sì è come dire qualsiasi altra cosa nella bibbia che ne so non bestemmiare tu non bestemmi perché c'è chiesto non bestemmiare e non vai contro la bibbia anche questo magari chiunque sta magari qualcuno sta ascoltando questo podcast dentro magari sta fremendo dentro sta dicendo mi fa arrabbiare questo però è la bibbia che ve lo dice e la bibbia lo dice ci sono tanti esempi oltre questi pochi esempi che hai analizzato come ho detto prima ci sono tanti esempi giusue con mosè eccetera eccetera o chi era il pastore che c'ha 17 anni nel nuovo testamento filippo ugoberto come si chiamava timo no aspetta sì non mi ricordo il nome però c'è un pastore di 17 anni cioè hai capito beh roba cioè pensateci un pastore di 17 anni cioè secondo voi era perfetto non sbagliava ma no assolutamente non sto a dire chiappate il giovane e fatelo pastore non sto dicendo questo però la bibbia ci sono tanti esempi che dice proprio questo quindi è la bibbia che parla il Dio che vuole non è più il nostro pensiero ma appunto il pensiero biblico e sì e su quello non si discute assolutamente penso se discutete su quello finisco qua chiudiamo il po' chiudiamolo cioè l'ultimo punto ora se abbiamo un altro punto dopo lo facciamo l'ultimo punto è cosa può fare un giovane che sta passando una situazione del genere diciamo essere visto come l'emarginato o messo da parte eccetera che si sente distante magari dall'autorità della chiesa che non può fare niente non può dire niente o che comunque non viene messo al servizio cosa può fare tu magari lo puoi dire anche meglio di me perché hai passato un'esperienza del genere quindi vai sì allora come ho detto prima sì io a un certo punto mi è venuto a parlare il mio pastore che dopo quel momento della pretica e mi abbracciò mi disse Alessio di Benedì che è stato bellissimo e ho approfittato di quel momento comunque io in generale volevo già parlargli quindi volevo prendermi un momento quindi uno prendere un momento per parlare da soli con il pastore né con i vostri genitori né con amici fidanzatine da soli fidanzatine è un pre-boy adesso magari si scherza si scherza mamma mia sì e insomma sì io approfittai di questa opportunità che lui mi venne a parlare ho detto è il mio momento gli devo parlare e feci pastore io voglio dirti una cosa comunque voglio dirti che vorrei servire e come hai detto tu prima bisogna stare molto attenti però al modo in cui ci si approccia se noi partiamo dicendo oh pastore senti io il Dio mi ha chiamato mi ha chiamato a portare un cambiamento in questa chiesa perché tu tra due anni non ci sei più ci sono io tra due anni pensioni via tra due anni predico io qui vai via vecchio se partite così scordatevi mi caccia di chiesa il pastore sì a parte se partite così non avete un cuore per adorare cioè per servire però se partite così proprio pur se avete il cuore lo perdete quindi attenzione a come ci approcciamo assolutamente quindi assolutamente come detto poi la sottomissione comunque bisogna essere sottomessi al pastore il pastore può rispondervi in una maniera che vi dà anche fastidio a me una volta un pastore il pastore mi disse una cosa che mi dite fastidio però dentro di me stavo sbroccando tanto sono sincero dentro di me termine molto scientifico sbroccare dentro di me stavo proprio esplodendo però in quel momento c'è il mio giusto adesso devi stare zitto però è il tuo pastore devi stare sottomesso e io ho detto ho presentato in camera e ho detto signore ma perché come sei permesso questa è una cosa più profonda di quello che pensi perché il pastore sbaglia anche se hai esperienze eccetera anche il pastore può sbagliare però nonostante sbagli noi dobbiamo essere sottomessi esatto capito non è che possiamo dire no guarda ha sbagliato come hai detto devi sbroccare proprio in faccia è una cosa molto profonda comunque bisogna anche perdonare i pastori assolutamente io dopo quella volta ce l'avevo un pochino con il mio pastore ma l'ho perdonato cioè mi diede il cuore per perdonarlo e assolutamente lo perdonai subito e capì che insomma era anche i tempi di Dio che non dovevo servire in quel momento quindi sì prendersi un momento per parlare modo sottomesso linguaggio anche giusto per parlare infatti io vi consiglio anche di prepararvi prima in caso insomma di prepararvi un discorso preparatevi un foglietto che ho scritto glielo leggete davanti così allora pastore pastore volevo di caro pastore egregi saluti vorrei servire in chiesa se possibile sempre sotto la tua sottomissione saluti Alessio non lo fare non lo fare scherziamo scherziamo assolutamente e sì poi allora innanzitutto vabbè prima di ogni cosa pregateci pregateci tanto comunque Dio sa i tempi sottomessiamo cioè prima di tutto sottomettiamoci a Dio poi sottomettiamoci anche al nostro pastore e rispettiamo i tempi di Dio e rispettiamo anche i tempi del nostro pastore comunque il pastore è una forma istituita da Dio come c'è un esempio molto bello nella Bibbia quando Davide era stato unto per diventare re ma Saul era ancora re e Davide aveva l'opportunità per uccidere Saul e diventare re si doveva un botto di problemi ma Davide disse no Saul è ancora l'unto di Dio io non posso uccidere finché se Dio lo toglie cioè se Dio lo toglie sì ma io non posso uccidere e Davide ha avuto se non sbaglio due o tre opportunità per uccidere Saul non stiamo dicendo che dovete avere pensieri omicidi contro il vostro pastore non uccidete i vostri pastore se avete pensieri omicidi contro il vostro pastore per favore scriveteci questo è un altro discorso c'è bisogno di parlare questo è un altro podcast prossimo podcast perché non dobbiamo uccidere i nostri pastori cinque motivi per uccidere i vostri pastori primo motivo è il vostro pastore secondo motivo è un reato è umano fate come Davide non uccidete i vostri pastori siete come Davide insomma sì Davide è rimasto sottomesso a Dio innanzitutto ed era una cosa pazzesca perché Davide aspettò anni prima di diventare Davide comunque wow questo è bello ancora di più Davide era un giovane come noi unto da Dio quindi era quello il suo futuro quindi non era più una sensazione o un desiderio era proprio quello era stato unto da Samuele aveva tutto Davide poteva dire io sono il re e aveva ragione però decise di rimanere sottomesso ai tempi di Dio e ai tempi di Saul questo penso sia Davide aveva il cuore secondo Dio e questo è un cuore da servitore secondo me un cuore di uno che dice sai che c'è io potrei servire perché comunque ho la chiamata ho l'unzione di Dio me lo sento nel cuore sono bravo a fare questa cosa ma perché non dovrei farlo però sai che c'è aspetto i tempi di Dio aspetto i tempi anche del mio pastore è un esempio proprio di eccellenza non c'è un esempio veramente ci sto pensando magari anche tu ora che lo stai dicendo lo stai realizzando veramente ci sto riflettendo ora è l'esempio proprio di eccellenza di quello che dovremmo essere noi il nostro cuore esatto wow wow veramente e poi Davide era giovanissimo quando ha fatto questo penso neanche lui era maggiore anni quando ha vissuto questo sì wow wow quindi sì e poi sì pregateci insomma su e siate pronti a tutto comunque qualsiasi risposta non vi aspettate che il vostro pastore vi dica sì assolutamente vai prendi il microfono vai evangelizzare predica canta fai tutto prendi il mio posto no assolutamente quindi preparate anche il vostro cuore a tutto e ricordatevi che comunque tutto è sotto il controllo di Dio e tutto copera il nostro bene io ripeto ci sono rimasto male per tante cose ma oggi ringrazio Dio ringrazio il mio pastore per aver passato quelle cose perché se oggi sono qui se oggi ho questo cuore non ho un cuore perfetto devo ancora migliorare in tantissime cose per me è molto buono lo apprezzo però se oggi sono qui se oggi servo in chiesa se oggi servo Dio è grazie anche a quelle esperienze che mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto conoscere Dio ancora più in profondità e poi penso che conoscere Dio anche nella delusione è qualcosa di bello assolutamente dunque è importante sì e mi è venuta in mente una domanda flash perché quest'ultima domanda era cosa può fare un giovane diciamo che vuole fare ma non non viene messo diciamo a fare cose in chiesa io ho una domanda un po' contrastante a questa invece co non l'ho preparata posso bere intanto vai vai bevi non fare rumore non sto scherzando e invece il giovane che va in chiesa che non ha voglia di fare niente che perché perché dovrebbe fare qualcosa perché dovrebbe andare dal pastore e mettersi diciamo avere quel cuore da servitore anche chiedere a Dio quel cuore da servitore ok la domanda è un po' no è forte invece come domanda mi piace io sinceramente tu che ne pensi no subito io sinceramente vi posso dire cioè nella mia esperienza che è molto molto breve sono nato ieri molto breve cioè quando fai qualcosa per Dio quando fai la volontà di Dio cioè oltre che ti senti una benedizione assurda perché ti senti senti non importante però capito ti senti confermato da Dio che questo è quello che devi fare capito ti senti guidato da Dio cioè io dico veramente mi sento mi sento bene quando faccio la volontà di Dio so che sto al centro della volontà di Dio in quello che sta facendo però oltre di questo poi Dio vi porta in avanti al prossimo step a fare questa a fare quell'altro quindi non pensate che magari che ne so avete paura che se andate dal pastore a dire guarda voglio fare qualcosa in chiesa e vi dice ah si devi pulire e non volete pulire allora non dite niente anche se vuol dire iniziare a pulire in chiesa o a mettere le parole sullo schermo qualsiasi cosa anche a fare quelle piccole cose Dio vi benedice lo so che sembra una cavolata perché pensate ah chi vuol dire sto lì a fare così lo scemo a prendere un tasto ma Dio vi benedice veramente Dio vi benedice tanto io personalmente non ho avuto l'esperienza di mettere le parole così però posso fare un esempio per esempio Christopher lui ha iniziato a mettere le parole poi ha iniziato a stare dietro la telecamera adesso suona in chiesa suona il basso con noi però Dio l'ha portato e ha guidato anche un po' a me a vedere anche il cuore da servitore che ha avuto magari a iniziare magari all'inizio non c'era voglia di mettere le parole capito lo vedevo pure non c'era voglia però a me il punto di svolta è stato quando mi ricordo stavo dietro la telecamera e stavo lì adorava proprio adoravo con le mani alzate dopo si muoveva così vabbè che ispano americano però capito vedevo quel cuore da servitore che voleva fare ho detto allora basta questo è arrivato il punto di svolta e Dio adesso lo sta usando nella lode e sono sicuro che Dio lo porterà ancora di più a fare ancora di più però iniziare diciamo con le piccole cose ci sembrano piccole io conosco anche persone che mettono le parole dalla vita anche vecchiette di 80 anni che ancora mettono le parole e ti piace perché si sentono che da parte di Dio è quello che devono fare certo è assolutamente perché un altro punto che possiamo dire è che la chiesa è come per esempio un corpo umano non c'è una parte più importante una parte meno importante per esempio se noi ci tagliamo il mignolino del piede non riusciamo a camminare ci sembra una cosa così insignificante mamma mia però è vero e anche nella chiesa la stessa cosa se uno non mette le parole nessuno può adorare perché non sa le parole quindi qualsiasi cosa funziona insieme oltre nella chiesa proprio il corpo di Cristo capito però è così nel senso iniziamo anche se non ci avete voglia andate dal pastore che posso fare capito mostratevi che avete voglia di fare o chiedete a Dio anche la voglia di fare il cuore da servitore e sì questa è una cosa che ho visto in parecchi giovani capito essere anche un po' indifferenti andiamo in chiesa sì bello ci vado perché mi ci porto nei miei però io penso che vi può portare anche al prossimo step anche nella vostra vita spirituale capito a fare di più e poi lì vedrete veramente la chiamata di Dio nella vostra vita a iniziare a fare le piccole cose vabbè come hai detto pure tu prima la tua testimonianza comunque servizio chiama servizio più servi Dio comunque uno si sente di fare di predicare molti giovani si sentono di predicare però comunque non puoi iniziare predicando sì assolutamente però tipo ad esempio tu hai iniziato con la batteria ma è un servizio che ti ha portato poi alla tua chiamata però non sei partito subito con la chitarra e con la voce e oggi stai facendo delle altre cose che prima non facevi perché servizio chiama altro servizio e poi non era il tempismo giusto e non era il tempo giusto esatto e quindi hai detto una cosa molto bella nell'apprezzare anche i tra virgolette piccoli ruoli perché poi comunque molto tra virgolette come hai detto non sono piccoli perché se non c'è quelle poietta non si adora sono essenziali hai lanciato una bella mina wow io credo che veramente sono usciti fuori dei bei discorsi sia per il giovane anche un po' da sfida sia per il giovane sia magari per diciamo magari la chiesa in sé per sé magari i pastori eccetera eccetera io penso che è uscito fuori un bel discorso ripeto io non so adesso però magari abbiamo detto qualcosa di sbagliato che vi siete magari sentiti attaccati o quello eccetera però le cose che abbiamo detto io posso dire che sono bibliche specialmente il discorso che hai fatto tu prima sui esempi della bibbia quindi è la bibbia che ne parla magari abbiamo sbagliato a dire qualcosa e ci scusiamo in anticipo però siamo giovani sbagliamo eccetera vabbè io penso che abbiamo parlato abbastanza sono quasi un'ora e un quarto ci siamo vuoi aggiungere qualcosa? no dai sono non mi abbiamo abbiamo parlato del giusto e sono usciti anche altri argomenti da questo quindi sicuramente nei prossimi podcast puoi usciranno delle cose collegate a questo assolutamente ma io l'ultima cosa mi sento dire non ci scoraggiatevi ora parlo ai giovani non vi scoraggiate ci siamo passati tutti quanti ci passiamo ancora ricordiamoci che è Dio che sceglie chi metterà al servizio suo perché non stiamo servendo la chiesa o il pastore o il ministerio stiamo servendo Dio quindi è Dio il pastore in primis è Dio il capo il caporeparto tra virgolette chi è che sceglie nel reparto chi mette il caporeparto non il tizio il dipendente esatto il pastore è un dipendente del caporeparto e quindi non ci scoraggiamo Dio sa i tempi Dio sa le cose e in questi tempi qua approfittiamo per andare più in profondità con Dio nell'intimità con Lui e poi mi sento dire anche un'altra cosa ai pastori ai pastori i leader insomma chiunque può curare e preparare delle persone ora non so il vostro pensiero ma lasciamoci guidare da Dio e c'è scritto nella Bibbia un bel verso non ricordo dov'è che dice di avere un orecchio pronto un orecchio pronto da ascoltare quello che Dio vuole tu hai una cosa molto bella che hai detto è che hai visto in Christopher ma se tu non avevi un orecchio pronto un occhio pronto a vedere che Christopher aveva quella cosa lì Christopher adorava tu non gli avresti mai dato caso perché i tuoi pensieri avrebbero potuto dire ma Christopher è un ragazzino all'adolescenza ma chi lo fa fa invece tu sei stato molto bravo ad avere un occhio pronto un orecchio pronto a dire a vedere a dire wow Christopher sta adorando signore ma è forte comunque vedo un cambiamento in lui quindi anche se non crediamo perfettamente in questo puntare sui giovani chiediamo a Dio di guidarci di guidare le nostre orecchie e i nostri occhi a vedere e a sentire innanzitutto quello che dice Dio e poi vedere quello che succede intorno a noi nella chiesa e il comportamento di ogni giovane quindi sfido un po' i pastori a fare questo e ripeto ringraziamo la generazione prima di noi ma aiutateci veramente a non fare i rolli che avete fatto voi e a camminare nella maniera più integra e giusta possibile sì anche io voglio dire le ultime due cose uno approfondi un attimo non vuoi approfondi tanto però il fatto che hai detto te nel senso Christopher quando l'ho visto anche noi che siamo giovani che magari siamo nella leadership sempre sottomessi al pastore però diamo anche noi possibilità ai giovani esatto perché magari un giovane che inizia a suonare eccetera dice ma io sto imparando perché devo anche mentorare altri certo io in qualche modo mi sento anche mentore di Christopher perché io ho insegnato io il basso eccetera però Dio si usa anche noi come leader per i più giovani nel senso se entra qualcuno che sa cantare eccetera ma vieni prendi il mio posto capito nonostante io sono giovane e sto facendo questo da poco da poco sette anni lo considero poco perché sono piccolo capito però anche noi siamo disposti a dare spazio ai più giovani di noi anche meno giovani però noi stiamo parlando di giovani anche più giovani di noi un'altra cosa che mi sono scordato wow volevo fare un punto bellissimo ma era riguardo a quello che ho detto io oppure era una cosa no era una cosa in più vabbè dai poi dopo se mai metto sottotitoli vabbè comunque penso che può bastare sì dai ci siamo ci siamo e ultima cosa che in realtà dovevo dire all'inizio era meglio questi podcast saranno disponibili su youtube in primis metteremo su youtube sul mio canale quindi il mio canale ora non sappiamo come chiameremo il podcast però sul mio canale in primis l'episodio intero poi metterò sulla mia pagina instagram o chiunque se lo mette anche tu non lo so magari dei punti che abbiamo fatto tipo 10 minuti 5 minuti quello che è spezzettoni e sarà disponibile con un po' di ritardo su spotify su apple podcast e google podcast come on solo l'audio ovviamente quindi a seconda di dove state ascoltando sappiate che ci sono anche su altre piattaforme comunque spero che vi è stato di aiuto spero che vi è stato di benedizione e spero che vi è stato anche di fastidio non so che sembra ma spero che vi è dato fastidio questo podcast perché vuol dire qualcosa vuol dire che Dio magari vi vuole parlare e niente un saluto a tutti ciao a tutti un saluto anche da parte di Alessio sicuramente ci sarà anche in futuro però inviteremo anche altre persone e grazie mille per chi ha ascoltato tutto perché siete veramente bravi mandatemi un messaggio se avete ascoltato tutto il podcast perché vi mando un bacino se hanno domande insomma di scrivere assolutamente se avete domande se avete anche critiche scriveteci su Instagram su Facebook lui Alessio Iori lo cercate su Instagram o nei commenti di YouTube Spotify non ha commenti ovunque scriveteci criticateci magari non ci fucilate non lo so incoraggiateci sì ma meglio incoraggiateci assolutamente però se avete qualche domanda se volete approfondire veramente contattateci non vi vergognate se non mordiamo lui so che se con sta barba sembra un po' che aggressivo no sono buono è buono è un bravo ragazzo e vabbè dai ci vediamo al prossimo video se mi seguite oppure al prossimo podcast grazie mille per aver ascoltato ciao 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 a tutti